1, 0, ignition, liftoff of the Falcon 9 and Kree Dragon Ciao a tutti e come sempre ben ritrovati sui fuori di universo e benvenuti per un nuovo Astro Productions da passare insieme Ora, giusto per dire due o tre cose sulla Terra, sulla situazione attuale climatica Noi abbiamo notato nell'ultimo secolo che il pianeta si sta riscaldando Cosa significa con il pianeta si sta riscaldando? Cioè, hanno misurato la temperatura media sulla superficie e nell'atmosfera e oceani della Terra per l'ultimo secolo E abbiamo visto che sta piano piano aumentando, ok? Ora, da dove può venire questo calore extra? Quindi, guardiamoci intorno, che c'è intorno? Beh, magari è colpa del Sole Ora, abbiamo lanciato delle sonde per guardare come cambia il flusso di energia che arriva dal Sole E abbiamo notato che in realtà non è cambiato quasi per niente E il Sole non sta facendo niente di strano nell'ultimo secolo Quindi, da questo punto di vista, è tutto molto tranquillo e sciallo Quindi c'è qualcos'altro Se la quantità di energia che arriva dal Sole non è cambiata E non viene da fuori Magari viene da qualcosa sulla Terra Ottime notizie per tutti, ci urmaglia